La magia del Natale Ma assolutamente Christmas time Non vedo l'ora che sia Natale C'ho una gran voglia di Natale, sarò onesto Eeeh Eeeh One, e two Eeeh Perfetto, funziona tutto Rispetto verso gli altri No L'unica cosa che è un po' Poi così Era un po' difficile capire Cosa fosse vero, cosa fosse falso Sì, però erano un po' cadamerici Sì, però vabbè, ci sta Alla fine era la prima volta Era anche un po' un test Green biondo non riesco a vederlo Ma green biondo è veramente tantissimo Gay! Oh, scusate, sono dentro Ma Andrea del Negro No, cazzo Ma perché? Perché? Ciao Andrea No, lui si chiama Andrea del Negro Attenzione No, no, sì È il mio cognome Il mio cognome Ok, io mi faccio inculare così Dai Guarda, è nata nel panico più totale Guardala Si è spaventata Ciao Ciao, piacere Ti è spaventata Coc Ho bisogno di fazzoletti Era unexpected Tranquilla, sappiamo dov'è il limite del ban Non lo superiamo mai Sì, ma sì Coc Sono tre anni che faccio questo lavoro Va bene, non si sa mai Guarda Se non l'hanno ancora bannato Con gli ospiti che ha chiamato lui Direi che oramai Siamo a cavallo Sì Vero, vero Allora, tu volevi fare reazione a catena? Oh, reazione a catena oggi facciamo intesa vincente Allora, Andrea Io e te siamo in squadra insieme Va bene Andrea io e te siamo in squadra insieme Con Denalmond Te lo ricordi Denalmond Non so se sei mai conosciuto Ma credo di sì Stai bene Eccolo qua, lui Grazie Andrea Eccomi, buonasera Ciao Den Ciao Den Allora, mancano due ragazzi Anzi, Anakin è una ragazza E poi Oh, ci sono mille euro in palio, eh Sì, magari Magari Non gli credete, non gli credete No, e oh Dai, oh, metteteli voi Mi aspettavo tantissimo Rubino Visto che lui era il professionista De reazione a catena De reazione a catena L'ultima volta Intesa per niente Intesa per niente Ciao Den, come stai? Tutto bene, voi? Bene Ma dov'è che arriva la luce che c'è dietro? Da un proiettore Mamma mia, come stai crescendo strano Ma perché? No, si vede che Lui nel mio live ovviamente non le guarda No, 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 le guardo Intanto le apro Ovviamente mi ricordo anche di chiuderle subito Però le apro comunque Den, diventerai una persona rispettabile Quando toglierai quelle tende dell'ottocento No, non verranno mai tolte, basta Ma perché? Ma sta benissimo Da quel tocco vittoriano alla camera Scusate È osceno Ma no Di parte del muro Così quando porti le pupe Di lati le tende Sembra di fare sesso su un letto a baldacchino Certo Chiaro Assolutamente Ciao belli Ciao Buonasera Appena fatto la doccia È finito È finito Sto a pezzi Ma Di far cosa? Ho fatto una partitella di calcetto dopo Forse l'ultima l'ho fatta prima della quarantena Ok La chat non è in mezzo Lì si è un po' stanchino Se puoi invita altra gente Lo stancho no ma le gambe ce lo appezzi Bene Ma sei bravo a calcio? Bravo è un parolone L'arte erano bravi Io corro tanto ma ai piedi proprio C'ho due sinistri Due mancini Ok Però hai detto che hai fatto un botto di gol Scusami eh Sì perché Che hai detto? Perché non sono fumatore Quindi corro come un pazzo Urro Eh allora sei bravo Ci sta Ma l'ha scritto nelle storie che ha fatto un sacco di gol? No L'ho scritto a me Io quando non fumavo non correvo mai lo stesso Eh ti ho scritto Ma ecco Ma cioè Mi hai dedicato uno in realtà Mi hai dedicato un gol Scusate poi cominciamo Oh ma Cioè nel senso Io non sto capendo cosa cazzo siete voi Siamo a bici? Ci sentiamo Quando segno io lo scrivo Ma vi state frequentando? C'è il Gen Live Se no l'avrei scritto pure a te Non avresti mai scritto una roba del genere a me No T'avrei scritto Simo Ci sei? Sì perché Dimmi tutto No le volevo dire che ho fatto Sì sì ci sono Rega non sono sparito Ma io Cioè nel me ne fiero Mi avresti mai scritto una roba del genere Sì lo ho preparato Ma che cazzo me ne frega Ma scusa L'ultima partitella l'ho fatta Prima della quarantena Noi prima della quarantena Non ci conosciamo Quindi tu non sai come reagisco io Quando segno di tanti gol Sì no effettivamente magari potrei Sì è vero Effettivamente è vero Però Tu qual è che non stream il sabato giusto? Venerdì e sabato Venerdì e sabato Se avessi giocato venerdì o sabato Ti avrei sicuramente scritto Va bene Va bene Non è importante che tu lo faccia Cioè vivo anche senza che mi dici quanti gol fai Eh Gabri Va bene Mi sono salvato Andrea basta Ma è importante che scrivi a coca Che è diventata giustamente rossa Ma perché immagino che l'amicizia porti a questo Ma non sono diventata rossa Ciao ragazzi Noi non ci conosciamo Ciao Ciao Andrea Ciao Andrea Piacere Andrea Allora Andrea ti prego Lui è Gabriele Anakin Lui fa un podcast su YouTube bellissimo Dove intervista artisti E lui fa tatuaggi incredibili C'è uno dei top tatuatori in Italia Grazie Grazie mille Capito Andrea Quale dei due Andrea del 1988 Devo farmi un tatuaggio Cosa vuoi che ci disegniamo Vuoi fare un tatuaggio Lo facciamo insieme Ci facciamo mezzo cuore Io mezzo cuore Tu io sulla chiappa destra Tu sulla chiappa sinistra Sì Bello Ma è carino come cose Ma guarda chi è grida Abbiamo questa relazione un po' omosessuale Certo Intima Assolutamente Ma Se no Andrea Tu potresti tatuarti le cuffie Tanto ce le hai sempre addosso Ma non sono in 3D Come faccio? Dove me le tatuo qui le cuffie? Scusami Eh no Se ti fai montare Da qualche parte Ti fai la cuffia bella Un po' Esatto Proprio permanente proprio Figa Non è male come cose Cocca quando è che arriva Codomo? Codomo è in live da Joe E in questo momento Quindi deve aspettare Che finisca il format di Joe Mi ha detto che più o meno Finisce verso quest'ora Questa ora Quale? Eh le 22.45 Sono già passate In realtà è molto molto semplice Tanto allora Spieghiamo un attimo Alla tratta che cosa sta per succedere Allora Faccio brutto scusate Allora Così che rotti tu Allora Oggi facciamo un torneo Direzione a catena Ok Ovvero il format Con l'intesa vincente Lo conoscete tutti? Io forse no Allora È presente quello Avrei visto sicuramente Le clip su TikTok Quello dove c'è una parola E la gente deve dire Cosa? Non? È? Brutto? Bello? Praticamente C'è una persona In mezzo Che deve indovinare La parola Che altri due Gli suggeriscono E questi due Allora io tanto I giochi li capisco Poi nel pratico Quando li facciamo Vabbè Li facciamo vedere Una mancia Li facciamo vedere Una mancia Li facciamo vedere Una mancia Poi lo può vedere Se non hai capito Poi spiegiamo meglio Cioè esatto Esatto Quindi Dimmi Poi Quando sarà Te ne volevo Di pure uno Fighissimo Che ho fatto Settate in Puglia E secondo me Lo puoi riutilizzare Qua in live Grazie Volentieri Certo Poi quando te lo dico Cioè Quando stiamo Con più calma Te lo spiego È fighissimo Ti ammazzi dalle risate Va bene Va bene Facciamolo Grazie Allora Iniziamo subito Allora Le squadre sono Gabri Anakin Coc E Codomo Ok Tu Gabri Non la conosci Codomo Ma è un'amica di Coc Quindi già comincia A fare amiche Amiche di Coc La conosco La conosco Come la conosco Abbiamo fatto una roba Insieme Ah Si scoprono gli altarini Attenzione Attenzione Minchia Gabri passi da tutte È un mito Mamma mia No Non passi da tutte Nel senso Sessuale Per lavoro Era per lavoro Un tatuatore È normale che Le tatuate tutte Tatuate tutte Tatuate tutte Ma pensa a te Allora E quindi la squadra Sarà Gabri Coc E Codomo Contro io Andrea Ed Enelmond Allora Inanzo decidete voi Chi fa quello che indovina E chi suggerisce Io fossi in voi Farei Gabri Facciamo Come si dice Alterniamoci Scusa No 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 Secondo me Secondo me Sì 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 Allora Quello Pensativo Della nostra squadra È Dan Enelmond Indovina Io e te Andrea Facciamo La roba Io ci sto Dai io ci sto Anche per chi e te Siamo assolutamente imbecilli Quindi il risultato Potrebbe essere Esilarante Esattamente Dan Ti va bene Sì sì Per me va bene Assolutamente Cadavere Dio Bono Mi sono anche preparato La bandana Da mettermi sugli occhi Va che bravo Io no Una roba che mi dà Veramente fastidio Quando vedo Dei colori simili Ma non uguali È una cosa che mi urta Che cosa è questa Patologia nuova Che hai Io Credo di avere Una fobia Di questa cosa Quando vedo Due colori simili Ma non uguali Impazzisco Cioè Mi dà proprio fastidio Agli occhi Ma che cazzo Minchia C'ha la sedia rossa La cosa arancione La bandana Ancora più rossa Minchia sto impazzendo Vabbè Sappiamo come fare Impazzire Grimba Sistemato Ho fatto due secondi Io Eh ma è ancora grave Perché il Just Do It Il nero di Just Do It Non è uguale Al nero della sedia Ma basta No ogni tanto Sto vediamo Il quadratino Della mese sotto E anche quella È un'arancione Sì ma Alza di poco poco Minchia Gabri Tu con Tolkien Dietro Mamma mia Il rosa del riflesso Non è uguale Al rosa del quadratino È lo stesso identico Quando mi hanno fatto Questo della Nike Le ho detto Lo voglio Dello stesso rosa De Inc Va bene Mi fidano Già che me lo dici Già solo Non è per la fiducia Hai dimenticato Le pillole Green stasera Non le hai prese Non le prendo mai Non le prendo mai Bravo Hai fatto benissimo Assolutamente Assolutamente Va bene Allora Direi che possiamo iniziare In palio Per chi vince Questa sfida In palio Ci sono All'incirca Wow Dai Mille sesterzi Cominciate Cominciate voi Certo A completo Assolutamente Quindi Iniziamo noi Gabricock Ci vediamo tra pochissimo Che iniziamo noi Allora Ci diamo il tempo Adesso cerco se c'è un'applicazione Che ce lo fa fare Allora Bene Allora Perfetto Siamo già Nel format giusto Allora Con calma Sì ma Come me la dici la parola Me la scrivi su Whatsapp No 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 io mi bendo No non tu Ma sì però Se Green cerca la parola Io devo sapere Che parola Stiamo cercando Di facendo Non la puoi tipo Mettere a schermo Ma no Ma scrive Scrivevela su Whatsapp Così lo dico Poi anche io Alla mia chat Dopo andiamo Tanto ci metti un secondo A scrivermi Una parola Mica un poema Ok Ok Vediamo se c'è il gioco online Di sta cacata Lezione a catena Gioco Non c'è il gioco Molto avanzato Lezione a gioco online Vediamo Lezione a decente Download Oh Eccolo Scarica la nuova versione Scarica Eccolo Lezione a catena Tencent Vista Download Windows e Mac Sì poi quando me la scrive Ve la dico Così lo sapete anche voi Però Volevo vedere se riuscivo a fare Una roba Più carina Tu Andrea sei bravo A fare sta roba? Sei forte? Di pregio L'hai mai fatto nella tua vita Oppure no? Chi dei due Andrea Green? Allora Denelmond lo chiamo Denelmond Non l'ho mai chiamato Andre Ti ha risposto lui? Pensavo stessi parlando con lui E' difficile Tanto magari sarebbe passato a me subito dopo A chiedere Quindi No Andrea è Andrea Denelmond Nì Ci proviamo Nì Quindi Sì 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 Qualcuno Ah è vero Manuxo che conosce il programma Ma fai Fai generatore casuale di parole Tranne se No no ma C'è il programma Cazzo quel programma C'è pure il tempo Vabbè come vuoi Green A tua discrezione Guarda sembra pronto per un'esecuzione Sembra pronto di essere fucilato Pronto a essere decapitato dagli jihadisti Vediamo se mi risponda Pronto Manu Scusa sono in live Un'informazione Com'è che si chiama quel programma Per fare l'intesa vincente Bubu Milano Adesso gli risponde L'intesa vincente Sì Intesa vincente punto com Va bene allora niente Grazie comunque Cosa è capitato Bisogna spendere il merito Quindi non lo comprerà Manu Appena sveglio praticamente Cosa è successo? No è una roba fatta Cioè un programmatore che ha fatto Vabbè mettiamo il generatore di parole casuale Come ho sempre fatto Va bene così Allora Andrea Verrà una merda Hai la possibilità Allora L'alternativa sono due O ti condivido lo schermo di discord Entri su discord e ti condivido lo schermo Ma scrivi Ma lo scrivi su whatsapp Green Ma dai ci metti un attimo a scrivere una parola Non puoi mettere uno schermetto piccolino Un'acquisizione schermo da mettere con la parola che cambia Sicuramente non sono sicuro di saperlo fare Secondo me fa prima scrivere No 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 mi sa che lo riesco a fare io Aspetta mi sa che riesco a fare io una roba Aspetta forse riesco a fare io una roba Allora In teoria se io faccio Così Audio no Allora in teoria così Si vede sta roba Eh Esatto E io mi bendo No 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 però Vorrei un Si sta Se lui si benda ci sta eh No no aspetta aspetta Però lo possiamo Lo possiamo mettere bene Ma perché no scusa Vabbè Nuovo layout Aspetta 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 No Aspetta ho un'idea un'idea Spazio videocamera Uno Guardate Guarda sto per fare la magia Andrea sei pronto? Vai Andrea sto per fare una roba che mi dici sei un grande streamer Sei pronto? Vai Aspetta Adesso c'è la foto di un cazzo enorme Ma che secondo me? La foto di un green nudo? Si No 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 Sto per fare una magia Sto per fare una magia Un attimo Sono in trepida attese Ora chiudet Chiudela live Altefequato No 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 Sto per fare una magia Sto per fare una magia Sto per fare una magia Aspetta Porca vacca Aspetta Mamma mia Sono Sono disostroso Giungi Spazio media Ok Ok Vediamo Aspetta Salta in aria Aspetta No 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 Aspetta Grande streamer Grande streamer Guarda sei uno streamer bravissimo Veramente Un applauso Sei bravo Un applauso Sei bravissimo green The number one The number one Magia nera Per essere un grande Per essere un grande Sono un grande Chi ha detto il controllo Assolutamente Perché dovete scrivere Che merda in chat Non mi piace? Ma cosa? Ma è perfetto Ma più di così Non so cosa dire Come ce la fai testa di cazzo? No 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 Vabbè Vai Oh Che stronzi Den Legati Legati E poi ammazzo Legati Delmo Allora Il tempo Lo terrò Con il telefono Purtroppo Non si può fare tutto nella vita Va bene Io scusa Che suono devo fare Per No tu Vabbè Interrompi 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 Allora Ok Non vedo niente Time lo tengo da qua Ovviamente Non vedo nulla Facciamo 5 minuti a testa Ok Tanto faremo cagare Eh sì Purtroppo Allora Parola 5 minuti Magari Ok Sei pronto Andrea Allora Non possiamo schipparle Perché se no Non vale Quindi se Le parole sono difficili Cazzi nostri Ok Mettete due passi Perché non si possono schippare Ha ragione Tecnicamente per la regola Due passi Ok Tre passi No quanti Uno Due Due sono nel gioco Ufficiale Sono due 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 Ok Due due Ok Ci siamo Pronti Tre Due Uno Via Passo Minchia Ma la parola era Periscopio Periscopio Scusa Stazione veramente tragica Periscopio Potevamo iniziare con Sternocleidomastoideo Periscopio Abbiamo perso Solo Vabbè Un passo Minchia Periscopio Ok qua teniamo il punteggio Aspetta Puoi mettere La difficoltà delle parole Se non sbaglio In quel sito Periscopio Veramente Mi sa di sì Vabbè Mattiello così Penso sia più divertente così Puoi mettere anche Difficoltà bambini No no Solo numero di parole Vabbè Comunque andiamo avanti Speriamo in bene Avvio Chi Consegna Le Lettere Postino Aspetta Aspetta un attimo Vacca vacca Ce l'avamo Perché era messaggero Però Chi consegna Chi consegna il messaggio Un problema Eh sì Non si può Vabbè Vabbè La prima La prima De polli Su Però ci deve andare bene Anche con le parole Perché se no Dalla prossima volta Faccio scuola Ah potevano dire Chi non porta pena Beh ci poteva stare Effettivamente Però non mi è avuto in mente Chi non porta Chi non porta pena Messaggero non porta pena Però non mi è avuto in mente Eh no Ambasciatore Hai ragione Che cazzo Ah metto Posso mettere dizionario Per i bambini Io pure Entro da greenbot Mi sto rincoglionendo Metto dizionario per bambini Perché se no Già faremo mai Ok Ho perso 23 secondi Andrea Ti prego Eh ho capito Green periscopio Vai Cosa E Affilato Posata E Sì Coltello Bene Sì Bene Uno Posate Mamma mia Molto bene Uno Uno Avanti Avanti Abbiamo preso la riga Ma che cazzo Vabbè Dizionario per bambini Coltello Vabbè A me ogni tanto La parola li va dopo un secondo E quindi Vai Quale Frutto Rosso Piccolo Con Nocciolo Palle A co Ciliegia Vabbè Bravo No Aspetta 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 Hai detto Ciliegia Cazzo era plurale Ma va Dovete dirlo Se è plurale Hai ragione Infatti abbiamo sbagliato noi Hai ragione Vabbè Tutto Bisogna ingranare Ma scusa Cos'è Palle Il frutto Con le palle No Era ciliegia Ah Era ciliegia Ho letto male Scusate Il frutto Con le palle Bene Due Due Avanti Il frutto Con le palle La ciliegia Però è quello che me l'ha fatto capire Che definizione è il frutto con le palle Vabbè perché sembrano un po' Beh la ciliegia è proprio la classica rappresentazione delle palle Certo è uno scroto perfetto la ciliegia Certo Vai avanti 52 secondi Da Cosa Esce L'acqua Lavandino Rubinetto Benissimo Bravo Mamma mia Denamo Sei forte Minchia Il professionismo Il professionismo Sì 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 Il professionismo La ciliegia Le palle Ragazzi Il professionismo Avanti avanti Cosa Indossi Sopra Just do it Felpa Ah è vero Indossi sopra Just do it Ah cazzo è vero Sopra A parte che just do it Era due parole A parte che just do it Era maglietta No ma poi just do it Era due parole Ho sbagliato anche io tecnicamente Sì tra l'altro Un disastro Un disastro completo Quando si perde Si va indietro di una Sì Sì ma qua faremo Lo spareggio a zero Quindi Porca puttana Sì tre parole Vabbè è uguale Che cazzo Ma tu o tre Tre parole Sì è un disastro Cos'è che indossi Hai le palle Dai Avanti avanti Un minuto e quindici Ci mancano ancora Un po' di tempo Cosa Sblocchi Bicicletta Con Chiave Catena Mamma mia Sì va bene Non so Che puttana Che cos'è Danamond È lucchetto Scusa però Scusa Danamond Tu apri le catene Con le chiavi Scusa Mi posso chiedere No boh Non lo so Che cazzo Dove le compri le catene Danamond Scusami Ma porca troia Capito Non sbaglio una io No tranquillo Tranquillo Ma siamo anche noi No no Danamond Sì sì Veramente orgoglioso Un minuto e ventisette Siamo trattati Di due parole Eh si proviamo Si proviamo Facciamo il possibile Sarà tutta colpa mia Intanto Va bene Da Cosa Beve Il Gatto Acqua Ciotola Sì Michi Andrea Qua era facile Grande Danamond Giusto Michi ragazzi Bisogna essere attivi Quel da Quel da Mi ha impanicato tantissimo Dico la verità Avanti Avanti Siamo calienti Quale Animale Re Rugisce Eh Leone Sì Avanti Sì Siamo già recuperati Dai Sì Siamo già recuperati Mi raccomando Non scendiamo di nuovo Sembra Barbara D'Urso Quando fa quel segno Bene 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 Ora sono tutte sbagliate Cosa Tagli Faccia Rasoio La metta Basso Cosa tagli Con rasoio In faccia Scusami Cosa tagli Con rasoio In faccia Cosa tagli Cosa hai capito Ma cosa hai capito Scusate Scusato Sbagliato Dimmi cosa hai capito No ho sbagliato Mi sono focalizzato Sull'oggetto E quindi Tu hai detto rasoio L'altro ha detto La metta E quindi non riuscivo più A capire che cazzo fosse Porca troia Siamo tornati a duo Io non ci credo Ma eravamo Le ho indovinate due Eravamo a quattro No eravamo a tre Eravamo a tre E ora siamo a due Guarda che due È un ottimo punteggio Per come facciamo Sì in cinque minuti Insomma Ma avanti Avanti Cosa Non È Cattivo È Buono Bene Ok Questo era easy Questo era easy Niente più per i scopi Per noi Visto Avanti Avanti Ah È vero Attenzione Ha detto passo Quindi il passo Non toglie i punti Attenzione Ha detto passo Quindi abbiamo fatto Un punto adesso Un punto prima Quindi siamo a cinque Non abbiamo più passo Però Non abbiamo più passo Però siamo a cinque Perché abbiamo fatto Un punto adesso E non abbiamo perso Quello di prima Confermate in chat Non siamo a quattro Se confermani in chat Allora siamo a posto No in quattro Perché quattro Scusate Vabbè Quattro Niente Siete dei truffatori in chat Vabbè Non lo so Vabbè Quattro Vabbè Il pubblico sovrano Il pubblico sovrano Vai Sì Sì Quale Animale Strisce Eh No No Eh sto cazzo Adesso devi Ma aspetta Tu sei proprio Veramente Una famiglia di merda Ma vaffanculo Ma aspetta Ma faici parlare Ma faici parlare Ma C'è un lombrico Con la vitiligine Che cazzo Ma che cazzo è Che cazzo è Il panda A strisce Ma scusa Come non è A strisce Il panda Ma che cazzo Dici Il panda A strisce Ma appunto Sei un coglione Sei Ma stai zitto Ma fatti a pitturare I capelli Di rosa Ma che cazzo Di panda Hai visto Ma a parte che Non ho mai visto uno Animale a strisce E poi scusami Il panda Le strisce Cioè sono macchiate Ma che cazzo Dici Ma le strisce Macchiate Ma io sto ridendo Ma io porno Ma poi Non è un animale A parte che Io non vorrei ridere Così tanto Perché ricordiamo Che è un animale A rischio estinzione Quindi mi rispetto E poi comunque È alle strisce Io ho visto Era il logo della WWF Che cazzo dici Il panda A strisce Il panda A strisce Se non capisci Facci un caso Stai dite Basta Su internet Andiamo a strisce Crettino I panda Di cernobili I panda Stai dite Andiamo avanti Ci sarà qualche evoluzione Il panda Drogato Cosa Colorato Esce Cielo Pioggia Arcobaleno Bene Bene Che ricordiamo È a strisce L'arcobaleno Sì Salutiamo tutti i ragazzi LGBTQ Plus Come il panda Assolutamente Sì Tutti a strisce anche loro Ma sono dei grandi Bene Prossima Oh siamo in Siamo in rush Avanti Quanto manca? Cosa? Non È Lento È Veloce Ok Due minuti e trentaotto Due minuti e trentotto Ci manca Abbiamo ancora due minuti e mezzo Cinque Dai 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 Ragazzi Lgbq È una salsa Dai Cosa? Andrea Ma il tempo sta andando? Tempo Non Braccio Grande Braccio Vabbè ma in chat Mi scrivono Lgbq Ma che cazzo? Ma sì Ma è la seconda salsa barbecue Cioè non è che si può sempre essere Braccio Dai Andiamo avanti Andiamo avanti Allora Ok Cosa? Viene Dopo? Cinque E Sei Bene Mica ma non è che sa contare Bene 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 Allora siamo a sette Siamo a sette Molto buono Manca pochissimo tempo Andrea Sei pronto? Avanti Avanti Via Cosa? Fai Quando? Mangi Bicchiere Sete Infinito Passo Non ci sono più Non ci sono passo Non ci sono passo Sei un idiota La parola non è passo Bere La parola non è passo Infinito Ma ti devi farti curare Simone Il tempo verbale Il tempo verbale Finito Completamente Recontestualizzato Ma come no? Perché se no avresti detto Bere Ah è una parola Povero Telmo Cosa fai Quando mangi infinito? Tu veramente mi stai Prima il panda strisce Poi Il bere infinito Effettivamente Povero Telmo Cosa fai Quando mangi infinito? Che cazzo? Dai Mettiti tu a indovinare Così ti insulti Ma poi scusate Ma il panda Cioè anche tipo Il panda di stelle Sì sì A strisce A strisce No Il panda di stelle Dicono che è a stelle Cioè non è che Panda Cioè dipende Come nasce Ma che cazzo Il DJ Adesso lo vuoi vedere Sto cazzo di panda Stiamo avanti Stiamo avanti Per favore Quale? Animale? Batsman Pimpistrello No dai Ma pingoo Pipistrello Ma che cazzo Ha detto Batman Ha detto Batman Scusami 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 Quale Adesso tu mi devi dire Che parola è Piur piur Che cazzo Pingoo È pingoo È pingoo È pingoo Non hai visto pingoo Ma non puoi dire Pingu Se la parola è pinguino Allora tu dici Pingu Io dico I No Scusami No Invece pingoo Lo posso Ha detto Batman Andre ha detto Batman Volevo dire Il nemico di Batman Però Non siamo riusciti ad arrivarci Perché Vabbè Vabbè Va bene Vabbè Ma come chi cazzo è Scusami Il pinguino In Batman Non l'hai mai visto Batman Il pinguino Due facce Amen Un e meno Raga Easy nel chilling Avanti Avanti tutto Vabbè Cosa Non È Ridere È Piangere Perfetto Dai 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 Oh Se riusciamo ad arrivare a Otto Secondo me Chiudiamo un buon risultato Insomma loro faranno cagare Bene Allora Prossima Mamma mia Ok Cosa Apre Una Porta È Chiave Bravo Denalmond Bravo Con quelle facili siamo bravissimi Con parole più complicate Sarebbe un delirio Siamo a otto Siamo a otto Siamo a otto Come siamo a sette Oh ma amico Continuate a toglierci i punti Dalla chat Va bene Ma è male Intanto che cazzo Vabbè dai sette Sette bro Va bene Easy Ci volete ciularci Tanto lo vinciamo comunque Nel chilling Grande Testa di cazzo Non siete altro Va bene Allora Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti La salsa LGBBQ Conosciuta anche come salsa barbecue lesbo È una salsa che i panda strisce si mettono sulle palle dette anche ciliegie Dopo averle infilate in un periscopio Comunista Sì Chi è streamer? Dai Chi è streamer? Ma perché Ma perché Perché non hai detto cosa non è blu? Ma perché Che cosa non è blu? Cos'è rosso? Cosa non è blu? Scusa Scusami Chi è streamer? Chi è rosso lo streamer? Ma sì Dove vivi? Vabbè Grazie Ma che cazzo è rosso lo streamer? Vabbè Sì Non esiste rosso lo streamer Infatti Lo chiedo anch'io Lo so comunque Niente Un disastro Ma il rosso Ma tu rosso volevi farmi indovinare Ma dai Ma scusami Cioè Vabbè ma scusate Mi sembrava giusto Ma quale colore i comunisti fai prima Dai Cioè voglio dire Ma scusa Mi è venuto in mente così Vabbè Secondo me Secondo me È molto meglio Che ti facciamo indovinare le parole Io e Andrea No 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 Non sei capace Non avanti 35 secondi Almeno due parole Vi prego No ragazzi Io veramente non ho parole Dai Due parole Due parole Dai Delmo Ce la facciamo Cosa? Vendi Su Non li fa Singolare Piede Bravo Bravo Tutto in bocca Sto piedazzo Grande Grande Questa mi è piaciuta Qua è spaccato Bravo Sono filo di questo set Siamo Siamo tre uomini Non poteva non essere dei maniaci L'ormale Molto bravo Non poteva essere Qualsiasi altra parte del corpo Che si vende su Onifance Se non i piedi Vabbè ovviamente Andiamo a 12 secondi 12 secondi ancora Dove Ritrovo Mussolini Loreto Mamma mia va che caprone Guarda guarda qua il caprone Parla 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 Guarda qua il caprone In Italia Mussolini Loreto Che cosa cazzo è Loreto Eh no però Dai parla Senza Le Non lo so Non lo so Vabbè vai tranquillo Vabbè 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 Loreto E dove hanno Dove hanno messo a testa in giù Mussolini Quando No No Crocifitto Non crocifitto Mussolini No No Crocifisso Mussolini Ce l'hanno L'hanno tagliato la testa Non so che cazzo hanno fatto Dunque è morto Stai Che cazzo di È morto È morto Gli hanno tagliato Gli hanno tagliato la testa L'hanno crocifisso Che cazzo L'hanno crocifisso Vabbè E comunque Ha fatto una brutta fine Fortunatamente È una brutta Brutta persona Non è stato un grande statista No Si vuole Tu a far indovinare le parole Fai cagare No ma tu che non hai Un caprone che non sai piazza Piazzare lo voleto Dai Ma Scusate Abbiamo ancora un secondo Un secondo Un secondo è impossibile Un secondo Un secondo Velocissimo Lo faccio partire esattamente Quando appara la parola Un secondo Un secondo e mezzo in realtà Dove essere precisi Ok Cosa Mario Uva Galli Mamma mia Siamo riusciti a perdere Un punto Un secondo 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 Super Mario Le vite Non ho usato nient'altro In quel momento Un altro fuma Cioè ma no Simone veramente Dai su Io ho detto Cos'è che hai capito Mi aspetta Cos'è che hai capito Che ho detto Fuma? Si Ho detto uva Brutto deficiente Ma fuma dove? Cos'hai capito? Ma va bene Perché nessuno Ha pensato alla vita Quella da parete Però No ma no Ragazzi dai Simone Tutto sommato Siamo andati benissimo Considerando quanto di base Facciamo cagare a sto gioco Voglio dire Comunque potremmo dire Cosa non è morte Plurale Si Un secondo Vabbè Ti può fare tutto nella vita Comunque oggi ho imparato Che Panda strisce Mussolini è stato crocifisso Senza testa Sì esatto Vabbè Abbiamo fatto sei Iniziati con cinque Quattro Ma basta Non ci faccio Quattro no No esatto Ma neanche cinque E sei e basta Ci avete tolto troppi punti Quindi Aspettiamo al prossimo round Speriamo che facciano meno di noi Perché se no mi sa che Boh la faccio finita Va bene Allora Arrivo Oddio mio Aspetta Muoio Ciao Codomo Ti prendo la separata sede Per salutarti E darti il benvenuto Qua Ciao Ciao Gran Ti senti? Sì sì Ti senti come? Sì ciao Tutto bene? Tutto bene Ma siamo solo io e te? Non ho messo dentro niente Non volevo salutarti Singolarmente Prima di mettiti in forma Visto che non Ah ok No ho fatto Leve assieme Coco mi ha detto Che sei simpatica Ci credi? Boh Vediamo Ti vedi? Sì 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 Secondo me sei simpatica Cioè lo Dai Si vede da Da lineamenti Che sei simpatica Ah Quindi Assolutamente Peccato quella volta Che mi hai preso insulti Che mi ricordo molto bene Ma questa cosa Non è vera? Questa cosa Secondo me è vera Ma non vuoi ammetterlo Ma non è vera? Allora Io Chat Io sono entrato in una sua live Ve lo ricordate Lei mi ha detto No Grimo da una merda Non ci vogliava che fare Con quella testa di cazzo Che con i capelli Allora Grande l'altra volta mi fa Ah no perché Tu mi hai preso per il culo No mi hai detto Che cosa che ti avevi detto Che ti avevo detto Che non era mai vero nella vita Ma non lo so Probabilmente Perché sono super permalosa A me basta con un amica No guarda Io apprezzo L'invito Ma non voglio entrare Nelle tue live Cioè io già sono Così mi offendo Perché sono super malo suone Oh che carino Ma puoi essere Tutti mi ha detto Non voglio entrare Nelle tue live No Avevo dei problemi E non ci riuscivamo A incastrare Organizzare E quindi Ho dovuto dire di no Un paio di volte Scusate Già che non sono inquadrato Sto guardando dei film porno Scusate Non mi dice no Non posso Non gli dico niente Tutto questo parlare di piedi Benvenuta Benvenuta Grazie Adesso siamo amici Ok Dovete fare sei punti Quindi Buona fortuna Ciao 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 Ci vediamo solo noi No ok Non capisco Cazzo La prima volta Faccio streaming Ma Gringo Gli ha spiegato niente Sì ma non gli ha spiegato niente Non sento un cazzo Ti ha chiesto come stai Ah tutto bene Ma tu sei bar Ti sento strano Ti sento lontano A posto raga Abbiamo vinto Tu mi senti bene Adesso Adesso ti sento Ok Bene Io sono Bene Vabbè ragazza Mi dovete Scusare Dov'è Coc 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 L'hai levata No non l'hai levata Cioè 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 Coc Coc ci sei Parla Sì che ci sono Ah però non ci sei in schermo Metti la cam Sai che non riesco a mettere la cam Perché c'ho la cam In stream No no io non rimango in schermo No 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 Ma No cosa che volevo dire Ah oh se qualcuno di voi può tenere il tempo Cocco lo puoi tenere tu Secondo me chi è la più skillata a fare queste cose Veramente Debbie sono sparito Cosa Tempo No i numeri no Dimo ma non lo puoi tenere che stai fuori Eh dai 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 Vai anche Sì ma non gli ha spiegato le regole Scusate Come fanno a giocare Non gli ha spiegato le regole Scusate Ciao Ciao Eccomi di nuovo Ah ti indovina Tu che sei al centro E che sei l'unico uomo Grido Grazie per te Sì Ce l'hai Ah mi raccomando Scusa Coc Per averti di nuovo Vabbè Mi raccomando io Visto che non sarò dentro Ogni volta Ma non ho un modo per star dentro Ma non farmi vedere Eh dovrei essere Dovrei diventare Coc Aspetta Ma in che senso Dovrei diventare Coc Che non c'è più Aspetta scusa Io faccio così Che cazzo sta dicendo Ok Ma per i giorni estintori Anagin e diadrono No è sempre Coc Quella buttata fuori Che vita brutta Sto capendo No Adesso Adesso devo giocare Che cazzo sto facendo Servi Servi A schermo Vabbè sì Effettivamente Ma mettendo con passamontagna Va bene Va bene Va bene Passamontagna è una cosa che hai Gli occhi No Al contrario Io lo metto Ah ok Faccio una schiuma Faccio Va bene Va bene Ogni tanto entri Per dirci quanto cazzo Di tempo ci manca Così va bene Ma il gioco Qual è Ah è questo qua Ok Quanto è fluore scelta Quel passamontagna Scusatemi No ma tanto penso Che lo faccio solo Non ho mai visto Un passamontagna Così arancione Ma aspetta Vorrei trovar qualcosa De migliore Perché con questo Moro Ma vedi Così sparisce Sparisce quello Più in là Sì Devo mettere qua Ci pensate In questo momento Potrei starmi Masturbandomi Vabbè Tanto che sistemate C'è un po' altro Manca Anakin Dov'è Ah Aspetta Beh Non sono inquadrato Potrei tenermi In mano In questo momento Aspetta Sto paziendo Non capisco mai Queste cose Allora No ho messo Muto il microfono Non mi sento Mi sentite solo voi Che cazzo è successo Che è successo Sì ovvio Lo sto facendo Guardando di voi Vi sto guardando E vi sto amasturbando È il mio passadevo preferito Ma perché Ogni cosa che c'è Perché mi butto fuori Sì sto cercando Io non riesco Vabbè Mi devo levare dal cazzo Ciao Ah ok E non lo so Io Vabbè Allora Vi farò partire Farò tutto io Ogni volta che vedete Che appare una nuova parola Vuol dire che ha partito Quindi dovete essere Schillati a fare in fretta Quando le direte stop Io fermerò il tempo Ogni volta che riparto una parola Sappiate che dovete essere veloci Quindi guardate le parole Cioè scusa Noi Quando le diciamo Poi è una certa Dobbiamo dire stop Quindi Dovete fare eh Prenotare Quando vi prenotate Io stoppo il tempo Ma ci prenotiamo Dopo aver fatto che cosa Dopo che finito Cosa è questo Eh E di chissà parola Cristo Ok 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 Perdona Porni a pormi vita Parole difficili Secondo me Sarebbe bellissimo Io devo indovinare No no Voi due Voi due Mi dite a turno una parola E mi provate a fare indovinare Sì sì L'abbiamo capito L'abbiamo capito Ho paura delle cagate Che non usciranno Va bene Simone ci siamo Sto carico Sto carico Sto carico Vai Non so eh Adesso viene fuori Acido Desossido Simone Rega c'è il tempo eh Quindi Non è partito Ancora Niente Green ha avuto Un attacco in schemi Simone ci dai una parola È andato in bagno Cioè Anche Green si sta masturbando Fortissimo Bello così Mi sembro di buon mezzo messicano Aspetta 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 Eh Mo però hai visto la parola Guarda che rincretinito Ma scusa C'è ma sere C'è ma sere Ma hai detto Simone Sta cagata Cagogna Sembra Green veloce Si ma si muore Ma chi cazzo Eh ho messo la camera a schermo Vai al mondo Ma è lento come la messa Quest'uomo Vai Cominci tu eh Chiara Poco grazie Sempre tre ore Cioè deve schiacciare un tasto Quest'uomo Un tasto Ok Dove va Green Dov'è la parola Cosa Dov'è andata la parola Non È Cattivo Che cazzo Chiara Quello Cattivo Buono Bravo Sì Chiara Chiara Via attiva Cosa non è Quello Che cazzo Cosa non è Quello Cosa Usi Sopra Il Tavolo Per Coprire Tovaglia Bravo No Ragazzi Qui perdiamo a bestia Prassimo Guarda quanto cazzo viaggiamo Qui perdiamo a bestia Io ve lo dico L'ho già prese due Sì ma tovaglia Dai Madonna santa Simone Oh merda Cosa Ma ha cambiato Sì Metti Cosa metti Metti Dai 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 Cosa metti Deggi la parola Chiara Come metti Ma credi di Dio Ma non è Cambiate 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 strategia No prima era tovaglia Ah Sì ma boh Dai vai vai Ti ce la parlo Dai 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 La riprendiamo vai Eh cosa Usi Cosa usi Per Mangiare Il tavolo L'operfice Quadrata Usi il tavolo Eh tovaglia Ma no ma il tavolo Ma usi il tavolo Per mangiare Chiara Io volevo dire cosa c'è sotto la tovaglia Perché visto che prima era tovaglia Ma scusa il tango L'ierima svegliata Ma sono il tavolo Non facciano il tavolo Codomo Codomo bella gnocca eh Ma mi è stata Di Dammegodomo Cosa usi per mangiare Dai zitto che mo Ti faccio un domino a tutto Magi il tavolo So a palla Andiamo Andiamo Ehm Inizi tu Come No cosa Usi Per Orientarti Controllare La Strada Ah navigatore No No Mappa Troppo tecnologico Che cavolo Dite me i pirati Che ne sono La strada Quindi adesso La mappa La mappa Eh la mappa del tesoro Oh siete forti ragazzi Siete a zero Grazie al schiazzo Si vede che hanno 12 anni Cioè per lui La mappa è quella dei pirati Cioè nell'anni 90 Non c'erano le mappe C'erano i pirati Negli anni 90 Cioè voglio dire La mappa dei pirati Chiara Ce la possiamo fare Sì sì Cosa Eccoci Eh sì Cosa Mangiano Cosa si mangiano Le Tartarughe Ma come Ah lattuga Stavo Come l'ha indovinata Questa Scusami E uno Tutte le tartarughe Mangiano la lattuga L'abbiamo già indovinata Le due Come l'hai indovinata Questa Scusami Come cazzo Di Di Quale Colore È Salvini L'erba Eh verde Madonna siamo dei draghi Vai 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 Stavano Però stavano andando forte Ve lo dico Stavano andando forte Questo è un problema Ok Cosa è nera La Usi Addosso Durante Il Colloquio Di Cosa la usi addosso Durante il colloquio Di lavoro Aspetta andate avanti Perché c'ho un dubbio Se è questa Sì vabbè ma non è che Possono Come Al collo No Ma non è così Continuiamo a parlare Non perché Continuiamo a parlare Ma quindi si ricomincia da capo A zero punti Cos'era Cos'era camicia Avrei detto C'era ragione C'era Eh giacca Avessi detto sì Vai Vai Eh vai vai Siamo a uno Cosa Fai Con Cosa fai La Bocca Quando Sei Stanco Buffi Eh vabbè regà Ma tu prima Prima di andare a dovere Quando sei stanco morto Cosa fai Che palle Cosa fai con la bocca Boh vabbè Eh niente Andiamo avanti Vabbè Vabbè Simone puoi non metterci 150 anni Cioè Ok Oddio È È Una Ma che è una Mamma Della mamma Più Ma che più Di È È una mamma Più di Mia Mamma È una mamma È una nonna È una mamma Più di mia mamma Chiaro È la mamma Di mia mamma Scusami Pensavo È una mamma Più vecchia Vai 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 Quanto siamo a tre Attenzione Le nonne Sono mamme Anziane A quanto siamo Simo A tre Forse No mi sa due A uno Vai vai Siamo a uno Vabbè vai 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 Va bene Non 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 Cosa Non Non ha Le Che cazzo Pantaloni Non ha pantaloni Uomo nudo Che cazzo Ma Non ha pantaloni Per Ma per Non ha pantaloni Pantaloni Ma per Pantaloni Ma per Pantaloni Tette Ma che sta dicendo Fica Non sta dicendo La La Non ha pantaloni Ma per la Fica Fica Ma per la Non ha pantaloni Ma per la Fica Scusate Ragazzi Allora No Chiudi Rocket League Chiudi Forte Chiudi Quello Che stai facendo A regà A regà Vi posso dire Una cosa Non potete Per La Ma E Madonna Pantaloni Ma per Donna Donna Pantaloni Per la Donna Chi ha Si hanno usato Le sue Contrioni Articoli Capito Parole Pantaloni Per la Donna Ho capito Come Cazzo Stavo Non vi tolgo Un punto Pantalone Manca Manca letteralmente Un minuto e dieci Dai Mi raccomando Che schifo Ok prossimo Pantaloni Per la Fica Scusa Gabri Disastro Ok Ok Comincia tu È Quale animale Nitrisce Animale Che Nitrisce Si può Si Si Può Può Cavalcare La donna Cavallo Scusate Ho usato Una Basta che mi dici Nitrisce Io devo Il cavallo Capito L'animale Che si può Cavalcare La donna E boom E effettivamente Vale Potete pure fare E dire a cavallo Ok Ok Pardon Penseremo ai versi Poteva Vai Ti Ti Quella per due Siedi Sopra Ma cosa vuol dire No Devi staccarlo Non devi In attimo In attimo Bravo Gabri Un punto Ti siedi sopra Perfetto Uno Ragazzi Mi dici sedia grossa Ma ne male Divano piccolo La poltrona Non è ovvio Che vado subito Diretto con sedia Capito E dovevi aspettà C'era dell'altro Allora mi dite Oddio La tipo La della poltrona L'ho letta L'ho letta Quanto stiamo a quattro Striscia Striscia Serpente Serpente Un attimo Ma poi Non striscia La lucertola Coppia Capri Se non c'ha le gambe Striscia Cristo Dopo il panda Striscia Lucertola Striscia Non Cioè il tuo inizio di frase È non È prego E i due opposti Chiara Non È Prego Grazie Bravo Come l'ha detto Grazie A uno Ok Ma giovanotti Grazie Buco Ma che buco Io avrei impostato Un'altra volta Vabbè Buco Sulla Casa Cammino Perché Non l'ho detto Non l'ho detto Non l'ho detto Mannaggia Buttata Ma è stato impulsivo Non l'ho detto Non l'ho detto Non l'ho detto A parte ragazzi A parte ragazzi Che finito il tempo Appena qua Stavano livelli Pazzeschi Gabri Eh vabbè L'hai letta Niente La possibilità di dare Di avere un'ultima guess Però Quanti punti abbiamo Su Avete un punto Cioè in teoria zero Ma che cazzo è Un buco Sulla Eh lo so È devastante Parla quello che ha fatto Parla quello che è stato Veramente geniale Comunque Strisciano Certo Effettivamente Pesantino Ragazzi Io mi ho adorato Però Voi usate i tavoli Per mangiare Le finestre Sono buchi Sulle case La gonna È un pantalone Per fiche E le lucertole Strisciano Che cazzo Allora No ma poi C'hai fatto caso Anche C'hai fatto caso Che qualsiasi parola Erano 300 articoli E condizioni Noi abbiamo La grammatica corretta È stato bellissimo Cosa usi Per mangiare Il tavolo Che cazzo Ma questa storia è veramente grave Ma poi tra l'altro Coc Tu mi hai detto Che Codomo Conosceva il gioco Sì Però sto rincoglionita Stasera che ho fatto Un'altra roba E mi sono spremuta Il cervello E quindi Sono rincoglionita Mi sono immaginato Mi sono immaginato Voi con due tavoli In mano Ma sì ma perché Mi sono immaginato Voi con due tavoli In mano Che mangiate il cibo Allora facciamo così Allora un punto Per tutti quelli Che hanno vinto E niente Adesso cambiamo le squadre Le squadre che sto facendo Ma possiamo fare a turno Che non indovini Sempre lo stesso Eh paese Dimmi dimmi No dico Che possiamo fare a turno Che non indovini Sempre lo stesso No beh certo Ma Mescoliamo Possiamo cambiare anche le squadre Sì Magari facciamo io Noi vediamo Codomo E poi ci date Andre Ma Povera Codomo Mi stai escludendo No Andre Da quanto ho capito Sei te Andre Ok No no Dai no facciamo così Ti stai prendendo L'intelligente del gruppo Io No io Codomo Aspetta Codomo Andrea Allora Stavolta Indovino io Va bene Fai andare Il gruppo Dove c'è Chiara Perché Chiara Mezzanotte deve andarsene A me basta Che non mi date Chiara e Simone Insieme Oh ma sei stronzo No 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 Gabri Gabri Guarda che sono forte a sto gioco Questo che ganna Adesso fa 10 punti Facciamo Allora Primo round Codomo Andrea Ed Enamon Mi raccomando Chi fa più punti Vince Allora io Allora io Indovino Va bene Vi sta bene Sì sì Va bene Io mi metto a indovinare Io mi copro così Scusate Non ho la benda Copro gli occhi Mi metto così Aspetta Ok Ah così Eccoci qua Sì un po' rudimentale Ma ci sta Ok Inizi tu Appena cambia la finestra Andiamo Partiamo Forza mi raccomando Sembrate due Se metti due ragazzi Al primo appuntamento Dai Un po' di certezza Chiaramente Che cazzo Non siate timidi Dai Codomo D'Enamon Parlate con essi umani Sì sì Adesso Ma qual è il problema adesso Aspetta non so come ti chiami Come ti chiamo Andrea Andrea Ok Come vuoi È uguale Ok Ok Vuoi come ti deve chiamare Francesco Andrea Oden Cretino Cos'era questo urlo Sussurrato incredibilmente C'è della tensione C'è della tensione Siamo calmi Bye Che cazzo mi deve Con Che cazzo vuol dire Con Questa Con questa Ragazzi stop al tempo Situazione tragica La parola è la palla Con questa cosa Con cosa giochi a calcio Con cosa giochi a calcio Ah Io non dico Con questa cosa Con le scarpe Con le scarpe Che cosa Cosa Hanno Gli Animali Dietro De la coda Bravo 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 Meno male Che c'è lui Che è intelligente No Cazzo è plurale Denelmo Dovevi dire plurale Una parola E' un caprò E' un caprò E' un caprò E' un caprò Che cazzo Vabbè ma è uguale Ti giuro Eh no Eh no Ha ragione Scusa ma che cazzo è Cudi Mi sta facendo incazzare Questa sera Mi sta facendo incazzare Non me lo deconcentrare Ero lì che ti guardavo Basta dire plurale Era fatta Non me lo deconcentrare Che deve focalizzarsi Mi sta facendo Veramente alterare Questa ragazza Sto morendo Passo Che cazzo è? Graff Graffe Va bene Ah la parentesi Ah si Ciao Dai Dai Cosa Trovi Al Parco Giochi Per Andare A Scendere Che cazzo Sono Passo Cosa trovi Al parco giochi Per andare A scendere Ragazzi scivo Io pensavo Alla funivia Che cazzo è No infatti La situazione qua è tragica Mi raccomando Ragazzi Cosa trovi Al parco giochi Per andare A scendere Che cazzo Non ho ancora dovuto Aprire la fonte Su Streamlabs Per aggiungere il punteggio Per dirmi Sì ho capito Quindi dai Mi raccomando So che avere De la mondo di squadra È pesante Basta Dicevamo Scusate Andiamo avanti Madonna Che schifo Comunque Stasera Ok vai Chi Ti Partorisce Basta direi Mamma Bravo Bravo Ragazzi Ragazzi Chi non è papà Poteva essere madre Mi stavo cagando in mano Io Stavo a cazzo Ma Però lì come Non potevamo Fartelo capire Chi non è papà Dicevo mamma Hai ragione No vabbè Ma non è un problema Però Ci abbiamo preso al culo Uno 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 l'abbiamo portato Dai 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 L'ho vista Green L'ho vista Cambia Mi dai il tempo Di coprirmi Meno male Che l'ha vista Che Cosa Non Non Che cosa non Una cosa Molto spesso In questo gioco Si utilizza Il cosa non è Per definire Un contrario Cosa non è braccio Gamba Cosa non è papà Mamma Capito In modo che è molto semplice Piccolo trick Andiamo avanti Scusate Io non sono Perdonatemi Io non sono del mestiere Mi dispiace Diciamo di nuovo a zero Scusatemi Vabbè Io non lo sapevo Ma ci potevamo arrivare però Vabbè Io andavo sul semplice Cosa Raccogli In Un Giardino È Colorato Eh Fiore Sì Sì Che fatica Ragazzi Sto sudando Sette Che amici Voglio morire Dio mi giuro Cos'ha i petali Ma la muto lì Eh Per dire Andiamo avanti Ma si possono dire Mille cose Che non stiamo dicendo Va bene Ognuno È difficile È difficile È certo Chi Aspetta che è difficile Non sono la sua cazzo di testa Fino a chi ci siamo Ok Chi Sono Piccolini E Umani Spesso Rompono I Coglioni Eh Bambini Chi sono Piccolini Umani Dani Chi sono Piccolini Umani Ragazzi Mamma mia Io Mi dispiaglio Io chiedo scusa Per Dan Almond Ma è veramente Vomitevole Chiedo scusa Oddio Sottissimo Dai questo ragazzi Dai Oddio Cosa Metti Sotto I Pantaloni Ce l'hai o vuoi altro Mutanda Sì 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 Cazzo Sì Ragazzi Mutande No Ho detto mutande Cosa Cosa Metti sotto i pantaloni La mutanda Tu te ne metti Te ne metti più di una Tu di solito Io una Una per palla Una per palla Hai ragione No Qui hai ragione Tu Ho sbagliato io Hai ragione tu Perché ero Nella mia testa Ero che Il plurale Me lo dicevate sempre Avrò detto Sarà mutanda Non mi hanno detto Plurale Ma avete ragione Voi Era per entrambi No ma hai ragione Ha più senso Mutande Che pensavo Mi diceste plurale Allora ho pensato Dobbiamo specificarlo Sempre Porca droia Dove È Chi Vissuti Dove è Vissuti Cazzo Chi è vissuto Ah Nato Tempo è finito Cioè no Di questa domanda Aspetta No aspetta 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 Green La posso indovinare Ho ancora Allora facciamo così Anche perché Se non la indovini È andata a meno uno Quindi proviamoci Allora la posso indovinare Qui si va di logica Dove è nato E tu hai detto Delmon Scusa Cos'hai detto Delmon No No Ho detto Vissuti Però poi mi sono corretto Ho detto Nato Ma guarda La sparo Completamente A cazzo Ti prego Mi viene in mente Solo Gesù Si Capanna Non è vero Ma che cazzo dici Mi genio Cazzo Ma che cazzo dici Mi genio Cazzo Come è possibile Come cazzo Non lo so Mi è venuto in mente Nato Chi è nato Ho vissuto Chi è nato Ho vissuto Vabbè Abbiamo vinto Dai A tavolino Questa cosa No perché mi viene in mente Solo uno Che è nato In un posto particolare Non è che è Napoleone Dico È nato Via Giovanni Madonna Questa Un applauso Un applauso Alla chat di Andrea Grazie chat Grazie mille Però la prossima volta Suggerite meglio Che siamo a uno Voglio dire Aspetta Chi sta Eh no Eh no Un attimo Che sta guardando Ha detto che avevano finito Il tempo Sta guardando Ah già Infatti Sì ma tu hai detto Abbiamo finito Fermo il tempo Simo Vabbè Simo hai detto Calma Ho detto Che avevano finito Il tempo Di quella di prima Scusa 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 Ok Adesso me lo faccio Anche recuperare Questi secondi Di nulla Scusate Cristo santo Animale Se vuoi giocare con me Sì ma ok Animale Ho capito poi Lentissimo Carapace Eh 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 Tartaruga Sì Ok Benissimo Sì Ho pensato a lumaca Anche a carapace Ma va bene Inizi tu Sì Vai vai Animale Con Collo Lunghissimo Eh Giraffa Ok Ok Fino a quando Dello zoo Fino a quando siamo allo zoo È perfetto Ok 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 Un attimo Di Che Colore È Il Sangue Eh Rosso Sì Oh madonna mia Sì Dai oh Stamandà 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 L'abbiamo preso Ma cazzo è un elicottero Che fatica Madonna mia Una zanzara enorme Cosa Fanno I Bambini Quando Stanno Passo È il secondo Cazzo Sì Porco Cosa fanno i bambini Quando stanno Ragazzi Sul tappeto Elastico Eh ho capito Non mi sarebbe Vene Non ci vede Ragazzi Non mi sarebbe Vene Infatti Potevamo Il canguro Cazzo È vero E questo è l'ultimo passo E poi non abbiamo più Cosa A Due Ruote Motore Eh Moto Sì Sì Qui stiamo rischiando tantissimo Perché c'era anche Motocicletta Qui stiamo rischiando tantissimo Ma Non vale Dire motore Se lavoro le moto Eh Tecnicamente una volta no Adesso però sì Perché sinonimi si possono usare No però ha ragione Non è un sinonimo No ha ragione C'è moto No ha ragione Ragione è grid Non si può Perché c'è C'è la parola Sì ha ragione D'altronde Certo Perché figurati Se non ha da Da rompere il cazzo Su una cosa che dico Giusto No no Giusto Se non sai le regole Stai zitto Sì bravo C'è la tensione Grande E niente È finito il tempo Cosa Usi All Supermercato Per Fare La Spesa Eh Carrello Sì 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 Stiamo andando Stiamo andando Decentemente Dai Dai Il tempo Ragazzi Finito il tempo Mi dispiace Avete fatto Cinque parole Va benissimo Cinque Va benissimo Cinque Cinque Ci sta Assolutamente Buono Adesso Però vi posso garantire Che io e Coq Cinque giusto Io green Devo andare Che è arrivato il mio momento Però mi ha fatto Un sacco ridere Staserata Quindi Fammi risolvere Grazie Andrea Ciao 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 ragazzi Ciao Anche tu Tranquille Tanto adesso manca solo il nostro round E poi E poi basta Fatemi sapere Come va a finire Ciao 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 Ho chiuso pagina a caso E non ho chiuso quella giusta Madonna mia Che fatica Ragazzi Che fatica Ma che fatica Cazzo Merda Che fatica Incredibile Porca troia Merda Devo andare Accesso Ma per Scusate Un momento Un momento Valter Cos'è A strisce Cos'è Scusate La 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 madonna santa quella di gesù è stata epica quella di gesù è stata epica in una maniera incredibile allora hai fatto vedere il link? eh vabbè mi dispiace green mi perdonerà green mi perdonerà perché sta qui questo mio grave errore allora il panda a strisce mi ha spezzato in due oh dio santissimo allora facciamo il sondaggino dai facciamo il sondaggino arrivo e allora sto morendo vai vi do due minuti vai scusate mi è venuto un rutto importantissimo che cazzo è poi? non so io allora esatte poi abbiamo altro che cazzo denis grazie per aver chiamato una sabba latino tra l'altro mi sa che qualcuno ha fatto una sabba io me lo son perso barbalo grazie per i 17 e alex grazie mille per i 500 circ stavo scrivendo la mia dieta per la settimana e ho scritto 70 grammi di panda integrale oddio la lg bbq oh madonna santa salto per aria malissimo ma no ma che scusa mi hai fatto sbragar da ridere ma quale scusa mi scherzi mi hai fatto morire da ridere ma si dai dai stasera facciamo ancora among us domani cambiamo facciamo l'ice of pio facciamo un'altra roba dai stasera facciamo among us allora oddio saltissimo salto per aria male mi hai avuto mal di cuore a fare di ridere ragazzi chi è? non ho visto attendere prego marco grazie per il sabba latino bentornato tra le lapera